Ciao a tutti, la Vernana chiude l'anno nel peggiore dei modi. A Frosinone va in scena un'altra prestazione confusionaria, fatta di errori, di disattenzione, di poca concretezza e poca civicità da parte delle fere contro un Frosinone meraviglioso, contro un Frosinone che ha fatto del volcato e buon calcio la sua filosofia e che a tratti è stato calcio champagne e loro vanno i complimenti per la bellissima prestazione e i bellissimi gol. Una prestazione condita da tantissima voglia di vincere, da bellissime giocate, da bellissime azioni e da tre gol bellissimi, uno più bello dell'altro. Per quanto riguarda la Vernana, l'unico rammarico è il gol in fuorigioco di Anthony Partipilo che poteva riaprire la partita perché se eri sul 2-0 per cui saresti andato sul 2-1 e la partita l'avresti potuta provare a riaprire. Per il resto un fine annamaro per noi tifosi ternani e una prestazione onestamente molto sottotono, con poca qualità, molti, molti, molti errori in fraseggio, tantissimi passaggi sbagliati. È saltata la fase difensiva nel primo gol del Frosinone, sul terzo gol stesso discorso, Proietti in aria non si sa cosa faccia, invece di andare a murare il tiro, l'altro gol uguale, ci sono comunque delle responsabilità. Purtroppo è stata una partita brutta e condita da molti errori al dispetto di una squadra che è una signora squadra e che lo ha dimostrato perché ha fatto una partita strepitosa il Frosinone sia in attacco sia in centro campo. Per quanto riguarda noi la Vernana ci ha provato e va dato l'onore delle armi, però purtroppo non basta provarci, a volte bisogna riuscirci, purtroppo questa ternana non sta segnando più situazione, sta accumulando sconfitte su sconfitte, ci fa capire che qualche problema a questo punto c'è e che in due partite hai preso sei gol e non hai segnato uno, per cui i dati non sono assolutamente positivi. Mi dispiace, dispiace perché oggi serviva a tutt'altro tipo di prestazione, serviva una prestazione di riscatto, invece la solita tecnica che per carità è una buonissima tecnica, quella di aspettare il Frosinone per poi stararlo, però non si è riusciti mai ad arrivare alla conclusione o se ci si è arrivati in modo sterile, mentre il Frosinone alla prima vera azione da gol ha fatto un gol con Mulattieri che anticipa Sorensen, palla che passa sopra la testa di Anarilli e si infila sotto il set e fa gol, purtroppo ci manca sempre quella concretezza e quella cinicità perché la ternana ha magari le prime occasioni da gol a disposizione, però poi non le sa sfruttare mentre gli avversari le sfruttano molto bene a quanto pare e questo purtroppo poi lo paghi alla fine con un risultato che è un risultato amaro, anche oggi una prestazione amara fatta di molti errori in fase di possesso palla, moltissimi errori fatti in fase difensiva e in fase offensiva perché ci sono comunque delle occasioni che potevano essere gestite meglio ora testa alla prossima partita, il girone di ritorno, quella di Ascoli del 15 gennaio dovrebbe essere il 15 alle ore 4.15 di domenica, per cui c'è tutta la pausa per recuperare energie prima di tutto e poi recuperare dei giocatori che possono essere fondamentali e soprattutto riordinare le idee, trovare un sistema di gioco efficace, un modulo efficace trovare la cosiddetta quadra in gergo calcistico e tornare ad essere cinici e competitivi soprattutto cercando di esprimere al meglio le nostre qualità e cercando di ridurre il più possibile degli errori che sono o di reparto o individuali e che purtroppo in queste partite stanno emergendo e quindi staremo a vedere, la speranza è che il girone di ritorno sia un buonissimo girone di ritorno e che la Ternana torni a segnare sua azione e a sbloccarsi e a ritornare a vincere e a prendere meno collo perché purtroppo in questo periodo stanno venendo un po' fuori i difetti della scorsa Ternana, della scorsa stagione e si stanno vedendo a volte i limiti di questa squadra che sono anche paradossalmente caratteriali perché ultimamente stavamo accanto un po' quella cattiveria, quella voglia di vicere, anche se oggi l'approccio paradossalmente era quello giusto però poi siamo sempre lì, è il solito discorso, le prime azioni non riesci mai a segnare le squadre avversarie, guarda casa la prima azione da gol, fanno gol non me lo spiego, io scherzando dico contro di noi sono tutti fenomeni per carità Frosinone era primo, però una squadra di fenomeni, hai giocato con il Pisa centrocampisti fenomenali, hai giocato con il Como giocatori stratosferici gli avversari e tu i fenomeni non li hai mai perché poi siamo sempre lì, errori su errori poca cinicità e concretezza, io ora non credo che questa squadra sia veramente questa per cui mi auguro che torti ad essere la squadra che conoscevamo, se va rinforzata è giusto che venga rinforzata e che si facciano le dovute considerazioni per il resto la Dernana purtroppo chiude l'anno nel peggiore dei modi con una sonora sconfitta 3-0, due sconfitte consecutive con tre gol a partita, quindi sei gol presi e zero realizzati speriamo che il 2023 sia un anno migliore di questo e che la prossima partita sia una partita migliore anche perché peggio di così, onestamente, non si può fare